Buongiorno a tutti e agli amici di Mountainblog, siamo Fili di Schaffing allo stand di Salomon e abbiamo l'occasione di presentare il nostro nuovo direttore vendite per quanto riguarda l'Apparel, appena arrivato in Salomon Gianluca Castoldi, che con l'occasione presenterà i nuovi prodotti, la nuova gamma, la gamma 2012, con le grosse novità di Salomon per quanto riguarda l'abbigliamento. Quindi passo la parola a Gianluca che ha qualche cosa di dirvi di veramente interessante. Grazie, grazie Augusto. Buongiorno a tutti, sono qua a presentarvi oggi allo stand di Salomon, l'abbigliamento Exo S-Lab, per l'abbigliamento di punta per quanto riguarda la stagione Spring Summer 12. Possiamo dire che questo abbigliamento è stato sviluppato con il nostro team internazionale, i nostri migliori atleti e in particolare su delle specifiche richieste di Chilia Giornais-Burgada, che è il nostro atleta di riferimento per quanto riguarda il trail running. Partendo dalla maglietta, le Exo S-Lab Tech-T. Per quanto riguarda le tecnologie che sono presenti all'interno di questa maglietta abbiamo sostanzialmente tre tecnologie. Una tecnologia a compressione per quanto riguarda il che comporta il sostegno dei muscoli del pettorale. La tecnologia Postural che è data da questa trama nera che vediamo sul posteriore che serve per sostenere una posizione più corretta durante la corsa, soprattutto dopo diverse ore di attività. Questo comporta una posizione più eretta durante la corsa e quindi una migliore efficienza anche a livello poi successivamente di postura e quindi di falcatta. Diciamo che dalle misurazioni fatte, grazie ai nostri attenti che ci sono prestati proprio per, diciamo, un po' come cavie. Il guadagno è dato dalla tecnologia compression, quindi data da i film in più grigio e la tecnologia postura data da i film in nero, in tessuto. Il vantaggio su un tre ore di attività, quindi su 42 km di distanze all'incirca intorno agli 840 minuti. Per quanto riguarda poi il pantalone, il pantaloncino da corsa, completamente in poliamide, anche qua abbiamo la doppia tecnologia postural support all'interno, quindi per un contenimento della deformazione muscolare durante la corsa e il sistema compression dato sempre dal film in più. Il sistema compression ovviamente che a livello di gamba facilita e migliora tutto quello che è il ritorno flusso venoso per quanto riguarda il, la migliore performance, la migliore, la migliore performance.